quante volte proviamo qualcosa per la prima volta in assoluto e va tutto un disastro a volte anche la seconda o la terza a me capita spesso in cucina devo dire la verità vedo il ragazzo che nel giro di qualche minuto apre il trigo prende ingredienti apparentemente a caso e li mette insieme creando dei manicaretti deliziosi senza nemmeno pensarci due volte magari facendo anche del multitasking e mille altre cose contemporaneamente penso caspita deve essere veramente facile cucinare come lui questa è la fatidica fase in cui siamo inconsapevolmente incompetenti in altre parole sappiamo di non sapere fare una cosa ma non abbiamo idea di quante cose davvero non sappiamo la seconda fase è quella in cui decido di provare anch'io questa è la fase più delicata in assoluto e sai perché perché la fase in cui la maggior parte di noi decide di gettare la spugna sì perché siamo diventati consapevolmente incompetenti in altre parole adesso sappiamo quanto ignoranti siamo su un certo argomento su una certa abilità e cominciamo a pensare che forse forse è più difficile di quello che pensavamo non siamo così bravi non siamo abbastanza il problema è proprio questo che se gettiamo la spugna in questo preciso istante in questo secondo momento nella fase di apprendimento ci precludiamo ogni possibilità di migliorare e non lo dico certo io lo dice la scienza in questa fase infatti la mielina ossia la sostanza che protegge i neuroni consentendo agli impulsi nervosi di trasmettersi più fluidamente viene ad essere prodotto a 10 volte più velocemente con un impatto inevitabile sulla nostra capacità di apprendere una nuova abilità ecco allora qualcosa che non ci dice nessuno e ciò che il punto di massima frustrazione quando stiamo cercando di imparare qualcosa di nuovo è in realtà il momento più prezioso in assoluto perché davvero possiamo diventare dei maestri se continuiamo a fare pratica in quell'abilità quindi non arrendiamoci in questo momento in questa fase ma piuttosto diventiamo consapevoli del fatto che la paura di non essere abbastanza di non essere sufficientemente dotati per riuscire sarà sempre dietro l'angolo soprattutto in questo momento e noi non dobbiamo fare altro che lasciarla entrare offrirle una brazza di tè e poi lasciarla uscire dalla porta del retro solo se resistiamo a questa fase abbiamo la possibilità di passare a quella successiva che è la fase in cui diventiamo consapevolmente competenti in altre parole ancora non ci viene tutto naturale come vorremmo ad esempio ancora non riesco ad aprire il frigo e così mentre faccio altre mille cose riuscire a creare dei manicaretti come il mio ragazzo però quello che posso riuscire a fare è cucinare qualcosa di commestibile anche se devo ancora fare uno sforzo mentale notevole per ricordare e decidere che cosa mettere dentro la pentola piano piano se proseguiamo con la pratica questa abilità che abbiamo scelto di imparare diventerà così fluida e naturale da consentirci di farlo ad occhi chiusi un po' come quando guidiamo la macchina e per fortuna non è che dobbiamo sempre reimparare o pensare quando schiacciare il freno l'acceleratore o la frizione sei pronto per prendere un buon tè con la mica frustrazione allora condividi qui sotto il video un'abilità che hai provato ad apprendere una volta nella tua vita che ti sarebbe tanto piaciuto imparare ma che hai lasciato perdere perché pensavi di non essere portato di non essere dotato di non essere abbastanza bravo per riuscirci la domanda non è tanto se abbiamo fallito ma è se ci siamo arresi al primo tentativo o al secondo o al terzo ti è piaciuto questo video allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici e se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail fino al prossimo episodio un grandissimo abbraccio di luce non sei ancora parte della svolta school che cosa aspetti visita la svolta school.com e unisciti alla prima scuola in italia per la tua crescita personale www.mesmerism.info